Gian Paolo Dallara che veramente ha visto la storia di questo paese e che con grande umiltà ha saputo creare, guidare un'azienda che nasce dalle sue mani e diventare un'azienda con quasi mille addetti. E lui dice che se vogliamo rimanere uguali dobbiamo cambiare. Bel paradosso, è vero, se vogliamo continuare ad avere i risultati che avevamo prima dobbiamo cambiare, se vogliamo continuare ad avere le soddisfazioni di prima, i clienti di prima, il mercato di prima dobbiamo cambiare. Rischia di essere anche retorico, ma è un bel check a distanza di sei mesi rispetto al terremoto che c'è stato e con uno tsunami in arrivo probabilmente. Cosa stiamo facendo di nuovo? Te lo dico perché io per primo mi interrogo, mi interrogo rispetto alle innovazioni digitali che abbiamo fatto, rispetto alla variazione della nostra clientela, ai prodotti come stiamo gestendo, a come arriviamo a essere vicini anche se certe volte la territorialità, la vicinanza fisica non è facile. Lo sappiamo, sappiamo benissimo che il più grande nemico del successo di domani è il successo che abbiamo già avuto. Sappiamo che è molto più facile cambiare quando le cose non vanno, piuttosto che quando noi siamo radicati nelle convinzioni che siamo bravi, che stiamo facendo bene il successo, le soddisfazioni, le vittorie, rischiano di abbassare quella fame che invece è il motore di tutto quanto. Se vogliamo rimanere uguali dobbiamo cambiare. In che cosa stai cambiando? Cosa hai fatto di nuovo in stai sei mesi? So che chi segue i miei video fa parte di quella parte d'Italia che ha voglia di tirarsi sulle maniche, che sa molto bene, che non basta il soggetto, però intanto parte dal soggetto, dalla reazione personale, dalla grinta, dalla fame, dalla voglia, dalla volontà, dall'impegno. Mi dici una cosa, una mi basta, che in questi sei mesi hai iniziato a fare di diverso, una competenza nuova, una skill nuova, perché se vogliamo rimanere uguali dobbiamo cambiare. Me lo scrivo, fai! Fai che ce la facciamo!